Perché teniamo alla salute di tanti cittadini abruzzesi? Voglio precisare che il grande assente del processo penale di Bussi è stata proprio la mancanza di uno studio epidemiologico sulla situazione della vallata del Pescara. Il SIN, il sito di interesse nazionale, coinvolge 11 comuni ed è proprio mancato questo studio. Chiediamo quindi con un emendamento di un milione di euro, che non è una cifra altissima perché stiamo parlando di un bilancio regionale che prevede spese per 6 miliardi di euro. Quindi stiamo parlando di un solo milione di euro per uno studio epidemiologico non solo sull'area di Bussi e del SIN ma su tutta la regione Abruzzo. Uno studio che possa verificare le cause di tumori e malattie respiratorie nella regione e in particolare in tre punti focali che sono stati individuati come tali dallo studio Sentieri che è stato rivolto anche in regione. E cioè l'area del Fucino, l'area naturalmente di Bussi e di tutti i comuni compresi nel SIN e poi l'area metropolitana di Pescara, Montesilvano e Sportore dove probabilmente anche i superamenti della qualità dell'area che si sono registrati in questi giorni incidono molto sulle malattie respiratorie.